e come vedete nonostante tutto io sono qui e non me ne vado nonostante abbiano facebook abbia bloccato non si sa per quale motivo ancora le mie visualizzazioni non si sa per quale motivo non mi fa scorrere più tra i vari video in diciamo in evidenza non ci interessa noi continuiamo siamo qui siamo qui a dire viva la sportività siamo qui a dire evviva le persone per bene siamo qui a dire evviva le persone che sanno intavolare un discorso con onestà intellettuale e sanno parlare e dare informazioni in maniera pulita sanno fare sano sfotto perché è quello che mi sono sempre limitata a fare del sano e semplice sfotto poi chi va sopra le righe quello è un problema loro e se la vedranno loro con chi di dovere e chi di dovere è lì che guarda tutto però assicuro detto questo parliamo della nostra inter parliamo della nostra inter perché ieri ha vinto la prima partita stagionale in casa con tutti noi a sostenerla per chi ovviamente è da casa chi dai bar dai luoghi di vacanza e chi ha avuto la possibilità e l'onore di essere per la prima a san siro a tifare i nostri beniamini ho visto anche che mi hanno ripresa su sky velo su da zone scusate ve l'ho anche messo nelle storie il video dove sto esultando al gol di cialanoglu per me è stata un'emozione grandissima ragazzi non vi nego che all'inizio ero molto molto nervosa presa dall'ansia a manetta nonostante fosse il lecce perché molti dicono ah vabbè col lecce ah vabbè col como ah vabbè col parma abbiamo visto invece che i risultati sono sempre in bilico e possono sempre dare delle sorprese che non ci aspettiamo perché il campionato di calcio italiano che se ne dica è sempre pieno di sorprese ed emozioni è la verità poi che alcune partite è vero che lasciano un po' a desiderare è vero che la troppa tattica lascia un po' a desiderare ma tutto sommato però il nostro campionato rimane sempre fantastico per quanto mi riguarda e detto questo l'inter parliamo dell'inter della partita l'inter nel primo tempo è entrata con un appiglio spettacolare secondo me ha dimostrato al pubblico che la segue di avere una fame ancora molto forte molto potente e ce lo dimostra ce lo dimostrano le entrate decise di acerbi di francesco acerbi che pur non essendo nel migliore della condizione però è sempre lì arcigno e convinto di fare il suo lavoro fatto bene e poi l'entrata ragazzi nel primo tempo di Pavard quella mi ha fatto salire una carica un'adrenalina ho fatto come sembravo indemoniata ragazzi ve lo giuro perché a un certo punto Pavard entra proprio diretto sul pallone ma in maniera decisa e convinta non so se ve lo ricordate questo episodio lì ho avuto una carica emotiva e un'adrenalina che non mi racconto nemmeno e da lì si vede che gli uomini di Simone Inzaghi sono assolutamente pieni di quella fame ancora di più forse dell'anno scorso poi le cose potranno andare come potranno andare potremmo vincerlo cioè rivincerlo un'altra volta come no ma che non si dica che la squadra di Simone Inzaghi non abbia fame perché questo non lo lascio dire a nessuno soprattutto dopo la partita di ieri e ricordatevi che Lecce non Lecce altre squadre le insidie del campionato sono sempre dietro l'angolo e non si come come diceva Boscov non dire gatto se non ce l'hai nel sacco Trapattoni lo diceva Trapattoni diceva non dire gatto se non ce l'hai nel sacco ecco non dire vittoria se non hai ottenuto i tre punti al 95esimo e allo scadere della partita questo è poco ma è sicuro quindi evitiamo ogni volta di dire sempre eh ma con chi hai vinto con Real Madrid ma con chi hai vinto con il Paris Saint Germain no ragazzi abbiamo vinto una partita di campionato che non è mai semplice vincere soprattutto quando una squadra come il Lecce si chiude dietro pressa tantissimo perché il Lecce ragazzi ha pressato tutta la partita o almeno ho contato proprio col cronometro con l'orologio ho contato e il Lecce ha pressato fino al settantesimo del secondo tempo ragazzi e non è semplice per una squadra con quel caldo che fa comunque continuare a lottare nonostante abbia davanti una squadra che come l'Inter che ha avuto mille palle gol mille occasioni il tiro di Barella sarebbe entrata dentro assolutamente se il difensore del Lecce non si fosse opposto il tiro di Di Marco che è stato un tiro rocambolesco che era gol quello ragazzi o lo stesso errore magari di Thuram sottoporta il colpo di testa di Marco Arnatovic che mi è tanto piaciuto quindi chi lo critica per ieri veramente è per partito preso perché Arnatovic ha fatto una grandissima prestazione e ha tanto aiutato la squadra parliamo di Meditaremi anzi finiamo prima il discorso del primo tempo allora il primo tempo praticamente l'Inter ha fatto tutta la partita tutto il primo tempo in maniera eccellente si è un po' adagiata sugli allori devo dire gli ultimi dieci minuti gli ultimi dieci minuti poi nel secondo tempo è rientrata di nuovo con lo stesso appiglio con cui aveva cominciato la partita e ha deciso di chiuderla e il rigore sacrosanto perché chi dice che non era rigore quello significa che i rigori non si possono più concedere e poi vorrei dire una cosa a tutti quelli a tutte le pagine che non fanno altro che fomentare odio inutile poi oltretutto cioè sull'episodio di ieri inutile perché l'episodio di ieri del rigore su Thuram è un fallo da rugby non è un fallo da calcio normale è un fallo da rugby quindi se non diamo quel fallo lì ragazzi se non diamo quel rigore lì e allora in tutti i campionati europei e in Champions League e quant'altro non possono più concedere dei rigori la regola non funziona così se l'Inter ottiene un rigore sacrosanto non bisogna concederlo perché poi ci sono gli odiatori seriali delle pagine che vogliono fomentare solo polemiche e odio e poi mi bloccano la pagina Facebook a me no? per farvi un esempio la regola non è questa non funziona così la regola se il rigore c'è bisogna darlo anche se l'Inter anche se dà fastidio è così punto nel secondo tempo l'Inter ha fatto la sua partita ha amministrato tranquillamente il risultato il Lecce è riuscito a ripartire diverse volte in contropiede quindi attenzione contro l'Atalanta perché non puoi fare la stessa partita assolutamente perché ci sono state delle ripartenze del Lecce che non puoi assolutamente concedere all'Atalanta perché lì l'Atalanta ti bastona e non è il caso ma sicuramente sarà preparata in altro modo e l'Atalanta comunque gioca più a viso aperto rispetto a Lecce che si è chiuso praticamente in 11 uomini dietro davanti al suo portiere e l'Atalanta sicuramente farà una partita a viso più aperto che non è una partita semplice ragazzi se vai a vincere con l'Atalanta hai fatto un grande colpo nonostante giochiamo in casa venerdì sarò a San Siro vi aspetto tutti al Gate 8 prima della partita come sempre per darci un abbraccio per salutarci per fare due chiacchiere per scambiare due parole e niente questo è l'Inter ha strameritato di vincere contro il Lecce rispettiamo le squadre avversarie rispettiamo chi abbiamo di fronte perché poi come il Parma possono fare possono dare delle sorprese che non ci aspettavamo il Milan perde rovinosamente anche a Parma e sinceramente non me lo sarei mai aspettato quindi ha aspettato quindi ragazzi che dire ci prendiamo questi punti li portiamo a casa ci prendiamo una prestazione con fame e con grinta e con voglia di combattere di lottare e ce ne andiamo a casa soddisfatti ora testa a venerdì e soprattutto speriamo di recuperare il nostro capitano Lautaro Martinez condividete il video mi raccomando e fatelo in tanti vi abbraccio forte come se fossi lì e ricordatevi sempre la vostra luce vi vuole bene sempre 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 forza Inter sempre solo forza Inter non solo una giornalista sono un'appassionata e si vede pure cazzo grazie